Buon lunedì. La vita, gli eventi, le circostanze, sempre mutano gli eventi. Questa canzone l'ho voluta intitolare La donna del boss. È un po' triste però. Quando potremmo io e te avvicinarci in vita? Un l'altro per amarci un poco come se amanti lo fanno stati. Giovani a quei tempi legati. Oh, ognuno ha altre scelte d'amore. Oh, ma nella mente nostra noi. Non siamo mai scappati via da lì. So solo che non mi aspetterai nemmeno. E non mi aspetterai nemmeno. E non mi aspetterai nemmeno. Buongiorno. Ultime notizie dal notiziario radio. Oggi, il 13 settembre, muore inaspettatamente la donna del boss della malavita della capitale. E non mi aspetterai nemmeno. E non mi aspetterai nemmeno. E non mi aspetterai nemmeno. Per poter efficienti nemmeno non mi aspetterai non ti ringrazio ma non mi aspetterai nemmeno. È mangiare nemmeno tutti. E non mi aspetterai nemmeno tutti e benvole. E la notizia nemmeno di questo celebre. E non mi aspettenco, nemmeno stavolgo, nemmeno prassi a nella hicرة. Ma sarebbe quello che torna chi colore, a meno emergere nel sport spot E non mi aspetterete nemmeno condituendero con noi. E lo scelmare quindi perY Per segnere il vigote. S imagini sempre e corretti nel міcola a video che sortie... a lunedì prossimo ciao ciao ciao